Innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Davide Ranaldo, mi occupo di Marketing in TechValue e vi do il benvenuto al webinar di oggi, il cui tema è il Digital Twin nel settore nautico, l'esperienza di CMC Marine nell'analisi idrodinamica con SimCenter StarCCM+. Prima di andare nel vivo di quello che è il webinar di oggi, qui ho trovato un'agenda che ho voluto riportare per facilitarvi un po' quello che sarà il percorso che ci guiderà verso la fine del webinar, quindi dopo la mia introduzione interverrà l'ingegnere Francesco Palloni, Business Development Manager di Smart CAE, partner TechValue per tutti i temi di analisi CFD e formazione e supporto sulle soluzioni CAE e qui con noi abbiamo l'onore di avere l'ingegnere Pietro Cappello, vicepresidente di CMC Marine, che porterà quella che è l'esperienza dell'azienda nell'utilizzo concreto di StarCCM+. Chi siamo? Chi è TechValue? Per chi di voi non ci conoscesse, TechValue è il top partner Siemens in Italia per le soluzioni CAD, CAM, CAI e PLM e siamo parte di un gruppo e ci posizioniamo all'interno della Business Unit Digital Process Engineering e di Industries e il nostro obiettivo è quello di supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale grazie alle soluzioni CAD, CAM, CAI e PLM di Siemens. Quali sono i prodotti che abbiamo a portfoglio? Li abbiamo definiti secondo quello che è il tema del Digital Twin e del gemello digitale che sicuramente molti di voi conoscono bene. Per la realizzazione del Digital Twin di prodotto a portfoglio abbiamo NX di Siemens e Solid Edge di Siemens per la parte CAD, per la parte fabbrica NX CAM, ESPRIT e la soluzione di Virtual Commission di Siemens e per la parte di performance quindi CAI, FEMAP, Team Center e StarCCM+. A questo appianchiamo prodotti che non si limitano solamente all'ufficio tecnico ma che escono anche dall'ufficio tecnico come il PLM e Team Center di Siemens o la soluzione Linkersys per la documentazione visuale. Prima di passare la parola a Francesco Palloni, giusto vi volevo ricordare che dal 29 al 31 marzo TechValue sarà presente al MECSP di Bologna e al termine di questo webinar riceverete comunque una mail in cui troverete i riferimenti dello stand e la possibilità di richiederci il biglietto omaggio quindi potete venirci a trovare, possiamo anche parlarvi per sola di queste soluzioni. A questo punto io Francesco mi muterei e passerei a te la parola. Perfetto Davide ti ringrazio, vado a condividere il mio schermo. Ok, condividi e perfetto, trasferisco questa finestrina qua. Si vede, riuscite a vedere il mio PowerPoint, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, sono Francesco Palloni, fondatore di SmartKai e esperto di simulazione al calcolatore. La nostra azienda, come ha detto Davide poco fa, è partner di TechValue per quanto riguarda tutte le soluzioni Siemens legate alla sfera della simulazione al calcolatore. Oggi parliamo di un tema un po' particolare che è quello della simulazione idrodinamica nel settore nautico e marino. Cominciamo con l'affrontare il perché si rende oggi necessario utilizzare un software di simulazione affidabile per gestire la simulazione del prodotto, per creare il digital twin di prestazione, come ha detto poco fa Davide, di un'imbarcazione. Le motivazioni sono tante, quindi ho cercato di raggruppare quelle un po' più importanti. Per prima cosa il fatto che i regolamenti che prevedono regole sulle emissioni e di conseguenza strettamente legate ai consumi di carburante richiedono di rispettare requisiti sempre più stringenti per quanto riguarda i temi legati all'impatto ambientale e all'inquinamento. Un altro aspetto che però è più legato all'operatività dell'imbarcazione è quello legato ai costi operativi. Lavorando sulle prestazioni di tipo idrodinamica dello scafo e del sistema di propulsione è possibile ridurre la resistenza che vuol dire aumentare l'autonomia dell'imbarcazione, ridurre i consumi e conseguentemente i costi nelle varie condizioni di funzionamento, quindi in mare calmo, con moto ondoso, durante le manovre. Un aspetto che riguarda chi realizza il prodotto, quindi l'imbarcazione, o i componenti, come nel caso di CMC Marine, che vengono installati sulle imbarcazioni, è quello di accorciare il più possibile il time to market contenendo i costi, il che vuol dire ridurre i test su modelli o i prototipi, modelli in scala o prototipi più delle volte in scala 1 a 1, richiedono quindi la realizzazione dell'imbarcazione, e altra cosa importante, attraverso la simulazione è possibile capire il funzionamento del prodotto nelle varie condizioni operative. Tutte queste richieste possono essere soddisfatte attraverso la simulazione fluidodinamica, perché la simulazione idrodinamica permette di comprendere il comportamento del prodotto nel mondo reale, vale a dire che è possibile simulare l'idrodinamica del fenomeno in scala reale, in scala 1 a 1, mentre sappiamo che le prove in vasca tipicamente vengono realizzate su modelli in scala e pertanto richiedono delle traduzioni, delle adimensionalizzazioni, per poter trasferire quei dati misurati in laboratorio su risultati numeri che possono essere utilizzati in progettazione. Altra cosa importante è quello che permette di prevedere le condizioni di funzionamento al variare dello stato di navigazione, del movimento, cambiando il sistema di propulsione, permette quindi di fare tutta una serie di test che aiutano a innovare il prodotto attraverso l'esplorazione delle varianti di progetto, per cui senza realizzare un prototipo si possono provare più alternative sulla geometria dello scafo, della carena, sulla geometria delle appendici, sulla forma e il posizionamento dei propulsori, in maniera tale da ottenere e scandagliare uno spazio di progetto più ampio, ottimizzando le prestazioni in assolute dell'imbarcazione e riducendo anche i costi operativi. Questo richiede però che il software, lo strumento di analisi fluido-dinamica, sia in grado di soddisfare alcuni requisiti. Questi requisiti passano dalla generazione della griglia di calcolo, il mesher. Il mesher deve essere in grado di poter consentire la modellazione, sia di rappresentare correttamente la geometria complessa, sia a livello della scala dell'imbarcazione, nel caso in cui questa sia uno yacht, un motor yacht o una nave o delle scale dimensionali di un certo tipo, dove però ci sono dei dettagli che influenzano la fluido-dinamica e l'idrodinamica su scala molto più piccola. Quindi lo strumento deve essere in grado di gestire correttamente la forma dello scafo dell'imbarcazione e dei dettagli modellando ad esempio lo strato limite attraverso celle prismatiche dare la possibilità di gestire parti in movimento come nella zona di rotazione dell'erica e di modellare anche la scia per andare a fare dei rievi su quello che è appunto la forma della scia lasciata dall'imbarcazione durante la navigazione. Altro aspetto importante è la modellazione del movimento. perché anche se a livello progettuale si fanno delle ipotesi di condizioni di navigazione stazionarie in realtà l'imbarcazione è in uno stato di equilibrio dinamico è soggetta al moto dell'acqua e possiede i suoi gradi di libertà per cui il galleggiamento, il beccheggio, il rollio sono tutti gradi di libertà che possono essere introdotti all'interno del modello, quindi per simulare fenomeni come il sea keeping e il galleggiamento o per valutare l'andamento delle prestazioni idrodinamiche del sistema timone e propulsore ed elica è necessario poter simulare dei sistemi con gradi di libertà disaccoppiati, come in questo caso, per vedere l'influenza dell'uno sull'altro. Altro requisito è quello legato alla presenza di modelli fisici accurati e per modello fisico qui intendo modelli di turbolenza che siano in grado di catturare correttamente i fenomeni vorticosi e la scia lasciata e la separazione del flusso nelle zone in cui il flusso si stacca rispetto alle superfici e anche modelli matematici per rappresentare correttamente la superficie libera tra aria e acqua attraverso tecniche come il volume of fluid, BOF che è perfettamente integrato e accoppiato dentro STAR-CCM Plus con il solutore fluido dinamico. Altra cosa importante della quale poi avremo modo di approfondire grazie all'intervento di CMC Marine è legato alle prestazioni numeriche del calcolo il calcolo deve essere prodotto in tempi di produzione per essere utile non posso permettermi di aspettare giorni o settimane per sapere se una determinata scelta progettuale può soddisfare le mie esigenze STAR-CCM Plus offre varie funzionalità per velocizzare le analisi la prima è quella della scalabilità e della parallelizzazione del calcolo per cui su macchine multisi su singoli computer multicore o meglio ancora su cluster di computer su sistemi HPC è possibile scalare le prestazioni di calcolo riducendo i tempi di generazione dell'output altra cosa importante per incrementare l'accuratezza la disponibilità di strumenti come l'Adaptive Mesh Refinement che vediamo in questa slide dove automaticamente il software individua le zone in cui la simulazione potrebbe migliorare la sua accuratezza e decide autonomamente di andare a infittire la griglia in maniera tale da avere quindi il massimo compromesso tra numero di celle minor numero di celle per l'analisi e massimo livello di accuratezza dei risultati altra cosa interessante ora qui non parte l'animazione la faccio partire io è il discorso dell'automazione del workflow sul tema dell'idrodinamica le prove in basca o prove in mare è un tipo di flusso di analisi che è altamente automatizzabile per cui è presente già dentro Star Citizen Plus uno strumento che si chiama VTT Virtual Towing Tank che permette di creare le prove in basca virtuali dove importando la geometria del CAD visionandolo posso rendermi conto di quello che ho importato all'interno del modello e definendo degli input standard che vanno da appunto le condizioni di navigazione la velocità le caratteristiche del moto ondoso posso automatizzare il flusso di di creazione del modello standardizzandolo e dall'altra parte posso anche una volta messo a punto il modello usare lo strumento per la design exploration per creare in automatico la curva di resistenza in vasca di questa carena in maniera appunto come dicevo completamente automatizzata quindi con un un effort da un punto di vista di operatore minimo l'ultimo aspetto che è uno strumento integrato integrabile con Star Citizen Plus quella che Siemens chiama esplorazione intelligente dello spazio di progetto che un tempo si chiamava con il nome di ottimizzazione quindi il fatto di poter permutare con dei modelli più parametrici le condizioni la forma della carena al fine di andare a individuare la geometria che migliora riduce in questo caso la resistenza per cui dal disegno iniziale dando quelle regole di modifica della geometria in questo esempio è stato possibile ottenere una riduzione del 33% della resistenza a parità di forma globale dello scafo andando a lavorare su alcune caratteristiche geometriche della cadena per cui e qui concludo un riepilogo l'analisi idrodinamica nel settore nautico e navale passa attraverso alcuni requisiti che sono completamente soddisfatti dalla piattaforma di simulazione di Siemens Star CCM Plus e tra le altre cose di questi aspetti alcuni di questi aspetti a questo punto avremo modo di sentirli direttamente dalla voce degli utilizzatori di un utilizzatore di CMC Marine che ci racconterà come quali sono i risvolti legati all'utilizzo della simulazione fluidodinamica nello sviluppo dei propri prodotti e quali benefici sta ottenendo da questo approccio di progettazione io a questo punto ho concluso Davide puoi passare il controllo a Pietro perfetto Pietro direi che puoi condividere e scontarti così ci sentiamo sei mutato hai Pietro sì stavo solo ho condiviso lo schermo allora adesso vedete tutti la presentazione intanto buon pomeriggio a tutti sono Pietro Cappiello sono vicepresidente di CMC Marine nonché consigliere con delega alla parte di engineering e diciamo in questa presentazione con una piccola agenda i temi che andremo a toccare una prima parte di introduzione su chi ha CMC Marine in cui ci incensiamo un po' una breve introduzione sui prodotti quello che facciamo quali sono le sfide che ci troviamo nel mercato in cui operiamo per la progettazione e da lì perché siamo andate a scegliere Star CCM Plus come l'abbiamo implementato quindi con una soluzione HPC e alcuni esempi di simulazioni fluidodinamiche che abbiamo fatto un piccolo accenno su possibili sviluppi futuri e poi lasciamo spazio alle domande intanto per abbellire un po' la la presentazione e renderla interessante ho sparso con alcune immagini di barche con i nostri prodotti infatti noi lavoriamo nel mondo della nautica a differenza tra nautica e navale le navale sono le navi nautica sono essenzialmente yacht e navi da piacere più che da lavoro allora CMC Marine è un'azienda italiana importante sottolinearlo azienda italiana che è leader nel settore della nautica per quanto riguarda la sua nicchia di di mercato l'azienda è stata fondata nel 2005 negli ultimi anni ha avuto una crescita del fatturato del 20% annuo abbiamo raggiunto ormai circa 80 dipendenti non mi ricordo il numero preciso ma siamo attorno agli 80 abbiamo tre sedi operative in Italia una sede a Milano due sedi a Pisa una fino a qualche mese fa ci siamo dovuti espandere fino a due e abbiamo anche una sede operativa in UK a Poole vicino a Tempton e negli Stati Uniti a Fort Lauderdale in Florida e inoltre abbiamo una rete di dealer centri service che sono aziende in cui abbiamo un accordo appunto di di servizio che copre diciamo tutti gli hotspot mondiali della nautica quindi tutta l'area di Mediterraneo Italia sud della Francia Baleari Grecia Malta Turchia l'area del Golfo Persico Stati Uniti tutta l'area Florida Caraibi e l'area di Hong Kong Taiwan e infine Australia Nuova Zelanda diciamo queste sono le zone importanti per la nautica lo yachting mondiale CmC Manin come ho detto è leader sia per tecnologia che offre che per quota di mercato nel mercato dello yachting soprattutto nelle imbarcazioni negli yacht dai completi tra i 20 e i 50 metri ho voluto mettere un po' di esempi di imbarcazioni quella della sale precedente giusto per curiosità la barca che si è comprato anche Cristiano Ronaldo questi sono due barche che hanno esattamente la stessa dimensione 32 metri ma come potete vedere sono due concetti molto diversi e questo implica anche delle sfide progettuali molto diverse un altro nostro importante cliente è San Lorenzo altri clienti la maggior parte come l'altro sono clienti italiani perché l'Italia questo per chi non sapesse vorrei sottolinearlo nel mondo dello yachting l'Italia è il leader in discusso mondiale numero uno senza rivali in quanto a stile numero di barche dimensioni di barche è veramente una cosa di cui andare fieri siamo italiani abbiamo anche clienti esteri Sanseeker è uno dei clienti non italiani importanti al mondo diciamo questa è un po' una lista di si fa prima dire chi non è il nostro cliente che chi è il nostro cliente questa termina la parte in cui ci incensiamo un po' andiamo a spiegare cos'è che facciamo avendo tutte queste su tutte queste barche di fatto CMC fa sistemi di controllo per il movimento delle imbarcazioni quello che noi facciamo sono sistemi di controllo dei timoni sistemi di stabilizzazione del rollio sia a navigazione che a zero speed e sistemi di eliche di manovra timoni non c'è bisogno di spiegare molto come funzionano la grande novità è l'innovazione in CMC che è stata la prima a introdurre un sistema full electric per il controllo dei timoni gli stabilizzatori di rollio come vedete sono delle delle pale pinne con un profilo alare che in navigazione funzionano esattamente come i flap dei levi quindi controllando l'angolo di incidenza con il flusso del fluido o dell'acqua si genera un momento stabilizzante del rollio mentre a velocità molto basse o all'ancora o come si dice in gergo tecnico zero speed la pinna viene movimentata molto velocemente dando un colpo di pinnata che genera un momento stabilizzante e infine le eliche di manovra o thruster come venivano chiamati servono tendenzialmente a manovrare la barca quasi tutte le barche anzi tutte le barche ce l'hanno posizionata a prua e serve a far ruotare la barca alcuni ne hanno uno anche a poppa e permettono di muovere la barca anche lateralmente per tutti questi sistemi diciamo che CmC Marine ha creato la prima versione full elettrica di tutti questi sistemi e ad oggi tendenzialmente noi abbiamo solo attuazione elettrica per tutti i nostri sistemi con tutti i vantaggi in termini di ingombri velocità di attuazione efficienza energetica oltre al fatto che possiamo collegare tutto a un'unica centralina di comando un unico PLC in questo modo sia anche un controllo sincrono tra timoni stabilizzatori e tutto il nostro prodotto principale sono stabilizzatori si chiamano Stabilis Electra insieme elettrici come detto è stato il primo stabilizzatore full electric presentato sul mercato nel lontano 2010 dal 2012 è protetto da brevetto e abbiamo un sistema di controllo a zero speed predittivo anche questo coperto da brevetto ho messo 2016 la data di concessione del brevetto in realtà l'algoritmo è utilizzato sin dalle prime versioni dello stabilizzatore negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo fatto più o meno 500 installazioni 500 imbarcazioni yacht con i nostri sistemi è disponibile in diverse configurazioni sia per barche dislocanti o plananti e semiplananti barche dislocanti sono barche che hanno tendono ad avere uno scafo più arrotondato velocità più basse stazze più importanti mentre le barche più avanti sono le barche che hanno una carina più fusolata e raggiungono velocità molto più elevate e diciamo tutta la famiglia tutto il range varie combinazioni di tagli di attuatori motori per varie potenze dimensioni di pinne possiamo coprire imbarcazioni dai 20 a più di 80 metri con una superficie di pinna da un metro quadro a 7 metri quadri qualche anno fa abbiamo anche creato una nuova famiglia di stabilizzatori che si chiama waveless stub è uno stabilizzatore molto molto compatto dove i motori utilizzati sono motori torque quindi lo spazio che prendono a bordo è veramente ridotto ma se pensare che l'autore più piccolo che abbiamo è alto 22 cm ho dovuto mettere questa foto è un esempio di un'installazione fatta su un Beneteau troller un 42 piedi quindi diciamo che non raggiunge i 14 metri quindi si può capire che lo spazio a bordo è veramente ridotto eppure l'ingombro a bordo è incredibile quanto si riesca ad essere compatto l'abbiamo introdotto nel mercato nel 2020 in realtà che fosse Can 2019 e ad oggi abbiamo già più di 170 installazioni passando poi ai thruster diciamo sono il sistema è molto semplice sono due eliche controrotanti che permettono di indirizzare il flusso d'acqua in un tunnel trasversale alla carena e permettono quindi di far ruotare o muovere lateramente l'imbarcazione anche questo primo sistema full electric presentato sul mercato e copriamo un range di potenza che va dai 20 fino ai 200 kilowatt ed infine le timonerie ho messo le timonerie e i timoni perché possiamo offrire o solo il controllo di attuazione dei timoni o anche diciamo tutta la carpenteria timone quindi anche la pala timone interessante notare che quando abbiamo presentato ormai qualche anno fa è stata una novità talmente novità che quando abbiamo approcciato Irina perché essendo sistemi di controllo della rotta dell'imbarcazione devono essere sottoposte a provazione del registro navale l'abbiamo approcciato Irina dicendo abbiamo questo sistema Irina ha dovuto riscrivere il regolamento e ci sta capitando adesso anche con il Lloyd abbiamo approcciato il Lloyd dicendo dobbiamo certificare la timoneria e il regolamento alla mano parlava di pressioni valvole di sovrappressione seduto diciamo che siamo l'innovazione è anche un passo avanti rispetto ai regolamenti quali sono le sfide a cui dobbiamo far fronte parlando della progettazione intanto questo mercato è un mercato con margine di errore praticamente nullo questa è una cosa che cerco di spiegare sempre ai miei ingegneri ne ho assunti che hanno l'approccio classico dell'ingegnere come si notava prima faccio un prototipo lo testo se va tutto bene lo metto in produzione nel nostro caso questa nave è un prototipo su questa nave abbiamo installato ben due sistemi che sono stati installati e testati per la prima volta non c'è modo di provarlo su nessun prototipo perché insomma ti lascia usare uno yacht di 40 metri dicendo beh proviamo e al massimo si rompe e ne facciamo un altro quindi diciamo che è fondamentale da parte nostra progettare sistemi molto robusti e che devono funzionare fin da subito l'altro aspetto è che il mercato è molto esigente e ha spinte diverse per esempio una delle spinte dal punto di vista dei costruttori di marcazioni è riuscire a mettere quanto più volume vivibile a bordo questo è un esempio di una barca abbastanza recente viene più a 40 metri per essere una barca di 40 metri è incredibile la quantità di spazio che c'è una se uno vede foto di barche anche solo di 10 anni fa per avere tutto questo spazio e questa superficie doveva essere una barca di almeno 60 metri quindi diciamo che c'è questa spinta a portare all'estremo tutto quello che è dal pelo dell'acqua in su c'è comunque la necessità di mantenere alti standard di navigabilità di manovrabilità di comfort a bordo soprattutto e ultimamente anche di efficienza energetica quindi la stabilizzazione il controllo dell'imbarcazione diventa un aspetto cruciale per il successo dello yacht in sé e i i clienti stessi diventano i clienti finali gli armatori diventano sempre più esigenti perché se una volta se andavi avevi la barca perché ti piaceva andare in barca e se dondolavi un po' perché lo mettevi in conto adesso il comfort è diventato un plus e quindi sono sempre più esigenti chiedono sempre di più da qui la nostra scelta di utilizzare Star Citizen Plus perché ci permette intanto di per tutto quello che sono i nostri sistemi permette di analizzare quelli che sono i carichi idrodinamici le risposte del sistema alle condizioni di mare valutare possibili interferenze tra superfici perché magari io ho messo la pinna e c'è il timone e quindi la turbolenza della pinna che effettua sul timone o o altro non so uno scafogo planante ad una certa forma e quindi canalizza il flusso dell'acqua e se ti metti una superficie in mezzo bisogna valutare permette anche di vedere qual è una volta un timone o uno stabilizzatore interazionante lo scafo e il mare valutare fenomeni di cavitazione delle eliche di manovra o evidenziare possibili instabilità fluidodinamiche prima che si verificano poi a bordo e ricorrere per trovare una soluzione inoltre con l'analisi CFD e qua ho messo qualche esempio che poi vedremo anche qui avanti questo è l'esempio di un'analisi CFD fatta su una delle nostre pinne permette intanto di ridurre i tempi di progettazione perché posso trovare tutti i diversi profili o determinare il profilo ideale fin da subito prima ancora di mettermi a costruire o chiudere la fase di disegno e poi dovrei fare revisioni e supervisioni permette di ottimizzare il design delle superfici perché appunto io posso avere una una superficie immersa in acqua quella può essere appunto una pala un timone e voglio ottimizzare la portanza diminuendo al massimo la resistenza per dire posso preparare poi le geometrie per la produzione perché una volta con il nasi CFD trovo la geometria ideale la posso diciamo esportare e avere direttamente il modello da cui fare lo stampo per la realizzazione delle componenti in vetroresina o materiali compositi posso fare un'analisi delle prestazioni in caso che debba fare un approccio a un cliente e mi dice se metto il tuo sistema come funzionerà io ho la possibilità di fare un nasi CFD e dire guarda funzionare in questo modo le prestazioni saranno queste e posso appunto verificare se ci sono interazioni con lo scafo o altre superfici appendici come può essere non so noi non ci occupiamo di propulsione ma può darsi che il timone e l'elica abbiano possono avere effetti indesiderati l'uno con l'altro quindi si può studiare in anticipo tutto questo inoltre non è da sottovalutare diciamo che l'utilizzo abbastanza diffuso del CFD e del software Star Citizen Plus nella nautica permette di condividere informazioni velocemente con i clienti il cliente che può dare la forma dello scafo senza che tu debba lavorare rimodellarla o importare rifare la mesh perché magari il cliente ce l'ha fatto la sua studio della forma della carena e a questo punto ti dà il modello già fatto a cui tu puoi attaccare quello che ti serve o una volta che hai fatto le simulazioni puoi condividere quel cliente sapendo che quello che il risultato è attendibile ci si può fidare di quello che viene inoltre la scelta non è che non utilizzassimo il calco il CFD o lo STAR in precedenza prima ci appoggiavamo a uno studio esterno a uno studio di ingegneria che ci faceva tutta la parte di simulazione e valutazione quindi può capire che a volte uno doveva farsi dare i dati dal cliente per passarli per passare anche i quei dati aspettare che facesse qualcosa invece internalizzando l'attività si riducono i costi perché lo puoi gestire direttamente si riducono i tempi di risposta perché puoi fare le simulazioni quando vuoi tu e non quando è disponibile il consulente aumenta la flessibilità perché di fatto puoi decidere cosa fare e se non ti va bene lo butti via lo rifai e da non sottovalutare cresce il no aziendale perché è una tutta una conoscenza che ti porti all'interno dell'azienda inoltre diventa anche un servizio che uno può offrire ai clienti in termini di vantaggio in termini di fatturato va bene un servizio in più una fattura in più che puoi staccare ma per il cliente diventa anche un servizio ed ha anche una certa immagine di professionalità migliore se io al cliente posso offrire il pacchetto completo gli dico non ti preoccupare ci penso io a fare tutte le valutazioni del caso e ottimizzare la posizione di installazione del mio sistema per te tanto meglio come abbiamo diciamo come abbiamo messo in piedi la soluzione scelta c'è da dire che noi siamo CMC Marine è già cliente di Oracle Cloud per altre applicazioni il gestionale abbiamo un sistema SharePoint già tutto su Cloud Oracle e Oracle ha una soluzione HPC che è High Performance Computing studiata anche per le simulazioni CFD con Star Citizen Plus quali sono i vantaggi intanto l'HPC permette di avere una soluzione flessibile in cui uno può accendere e spegnere i nodi a piacere solo per la durata della simulazione e selezionare anche il numero di core da utilizzare se voglio fare una simulazione molto semplice ne userò pochi accendo il core il cluster lo utilizzo finito spengo e non sto pagando un qualcosa se ho una simulazione più complessa posso scalare con numeri di core diversi o se voglio fare simulazioni in parallelo posso depogliare tutto quello che serve inoltre ho il vantaggio di sapere che ho sempre dei processori top gamma a disposizione e una latenza del sistema minimo stavo preparando le slide l'altro giorno e stavo pensando di dover fare tutto io in disegno delle infrastrutture invece ho trovato facilmente su google che Oracle ha fatto il lavoro già per noi come funziona tendenzialmente come vedete c'è un customer data center per noi è il nostro server su cui è installata la licenza star system plus una workstation in cui abbiamo installato star per fare tutta l'attività di preparazione del modello ci colleghiamo con una VPN al cloud Oracle quindi anche la connessione sicura protetta e dentro il cloud Oracle abbiamo un network cloud virtuale un WCN in cui c'è un nodo principale che è un nodo molto semplice senza gran potenza di calcolo di niente serve solo fare da gestore di tutta la soluzione che rimane sempre acceso si chiama bastion e in questo bastion noi ci possiamo collegare carichiamo il modello che vogliamo simulare con tutte le condizioni e definiamo quanti cluster vogliamo i cluster vengono adesso mi ricordo quali sia la dimensione che requisiano da 36 core ogni cluster sono un cluster dedicati che hanno processore memoria dedicata e hanno stanno in un network intanto in una rete privata quindi non accessibile all'esterno senza alcun rischio e hanno un network dedicato con una latenza bassissima ottimizzata appunto per questo tipo di simulazione quindi uno può selezionare quanti cluster vuole questo nodo capo questo bastion lancia deployment dopo 15 minuti hai tutti i tuoi cluster a disposizione lanci le simulazioni finita la simulazione ti copi i dati nel nodo principale con tutti i risultati e le simulazioni vengono chiusi o spenti o distrutti i cluster e ti rimangono i risultati e c'è la possibilità di avere un nodo di visualizzazione anche questo che si può spegnere a piacere con la configurazione che si vuole di di GPU schede grafiche anche questo si è sicuro di avere sempre l'ultima novità super potente di scheda grafica a disposizione non è nemmeno complicato perché credo che nel giro di due tre incontri con un tecnico dedicato Oracle abbiamo messo in piedi la soluzione e abbiamo iniziato a usarla come come accennava prima Francesco la il vantaggio di una soluzione HPC qual è? che è scalabile invece di creare un cluster io quindi farmi una workstation comprarmi i processori che da i processori che mettono a disposizione su HPC se uno solo vuole comprare sono botte di 5.000 euro l'uno quindi ho la possibilità di scegliere il numero di core che voglio a seconda del tipo di simulazione per esempio calcolo che vi faccio vedere prima su una pinna è un modello che ha 10 milioni e mezzo di celle e abbiamo provato a fare la stessa simulazione con numero di core variabili da 1 a 70 c'è un sweet spot ottimale in cui il numero di core permette di ridurre al minimo i tempi di simulazione oltre a questo numero di core c'è un'inefficienza data alla trasmissione dei dati tra un core e l'altro in questo caso il numero di core ottimale era attorno ai 50 200.000 poco più uccelle per core e si è visto che in 25 minuti in un quarto d'ora non in 25 minuti ma in un quarto d'ora perché 0-25 ore la simulazione completa qual è il vantaggio se uno va a vedere un po' lo studio dei costi vede che una soluzione HPC è completamente concorrenziale perché la simulazione a un quarto d'ora tiene a costare 60-70 centesimi il costo principale diventa il costo orario della licenza di Star Citizen Plus quanto più veloce la simulazione meno sono i costi dovesse essere un modello più complicato probabilmente uno deve aumentare il numero di cose o altro però è molto flessibile come come soluzione infine alcuni esempi simulazioni che abbiamo visto della pinna si possono fare varie visualizzazioni questa è una vista trasversale in cui si va a studiare turbolenze o una vista come ho fatto una caratterizzazione della pinna quindi la stessa pinna con diversi angoli di attacco rispetto al flusso per andare a studiare le varie aree di pressione e di pressione poi questo è che c'è anche la possibilità di creare visualizzazioni di questo tipo che sono sempre molto sceniche però diciamo che permettono anche una visualizzazione che si può offrire come materiale commerciale o per visualizzazione ai clienti sempre sempre il stesso calcolo della pinna o un altro tipo per esempio un altro tipo di sistema che stiamo sviluppando è una pinna per il controllo del pitch che in italiano è beccheggio quindi si controlla il beccheggio dell'imbarcazione questo è un classico esempio di un sistema completamente nuovo che stiamo sviluppando e stiamo sviluppando direttamente dentro start quindi possiamo fare abbiamo una forma di scafo e possiamo giocare con vari profili varie forme di pinna varie posizioni e vedere qual è la posizione o la geometria al profilo ideale prima di iniziare effettivamente a a progettare poi tutta la la parte meccanica essenzialmente questo ti permette di una flessibilità e di una riduzione dei tempi importante un piccolo accenno sugli sviluppi futuri come ho detto stiamo sviluppando un sistema di controllo del pitch oltre a sviluppare la geometria quello che poi faremo e ci dà la possibilità a stare anche di sviluppare e testare l'algoritmo di controllo in star ccm plus uno può creare l'algoritmo testarlo in una simulazione cfd prima di andare in acqua effettivamente in acqua a testarlo ci puoi andare essendo abbastanza sicuro di quello che hai fatto abbastanza sicuro delle performance che puoi offrire un'altra cosa per cui sicuramente utilizzeremo star è la possibilità di realizzare pale per stabilizzatori o pale di timone con geometrie customizzate per una singola commessa ci sta e questo per esempio ho voluto mettere sono molte imbarcazioni rossi navi ma perché personalmente mi piacciono molto quello che fanno questa imbarcazione è completamente customizzata può sembrare una barca vecchia rimodernata in realtà vi è sicuro che è stata fatta da zero nuova così quindi si può immaginare che è stata disegnata one shot tutto quanto è stata disegnata possa per fare una barca di questo tipo in cui è stata fatta la ciminiere è finta dentro la ciminiere c'è la gru per portare il tender sul giro del ponte altra cosa per cui utilizzeremo star ci permetterà di creare modelli nave parametrizzandoli validandoli da inserire poi nel nostro simulatore noi abbiamo un simulatore che è un modello molto semplificato dell'imbarcazione che utilizziamo per fare il sizing degli impianti a seconda dei dati dell'imbarcazione possiamo dire guarda ti serve questa taglia di stabilizzatore ti serve questa taglia di timoneria con questa previsione di performance ma lo stiamo sempre migliorando sempre migliorando il fatto di poter fare delle simulazioni di varie forme di scafo variando parametri andando a vedere quali sono i parametri più importanti per quello che vuoi ottenere creare dei modelli e validarli è un aspetto non indifferente infine ovviamente c'è quello che già stiamo facendo stiamo ottimizzando le prestazioni dei nostri prodotti simulando tutto un range di condizioni come facevo vedere uno prende la pinna fa tutte delle simulazioni a vari angoli di attacco a varie velocità di rimarcazione e vedi qual è il profilo ottimo che riduce al minimo il drag e ti dà delle prestazioni ottimali il fatto abbiamo optato per una soluzione con una licenza standard che possiamo quindi unlimited one core da tenere sulla workstation per tutta la parte di preparazione dei modelli e poi una licenza power on demand quindi in cui si paga consumo orario ha il vantaggio di permettere anche simulazioni parallele quindi io posso fare una caratterizzazione di il mio sistema scelgo dieci angoli di attacco lancio dieci simulazioni contemporanea e so che come abbiamo visto se una simulazione ci mette un quarto d'ora io so che dopo un quarto d'ora ho fatto dieci simulazioni anche grazie alla l'hpc che mi permette di scegliere tutti i cluster che voglio e in un quarto d'ora ho fatto un lavoro che magari ci si metteva una settimana se non due ultimo punto il taransai se vi piace molto la potete anche noleggiare che siano 80.000 euro settimana più le spese ho finito grazie a tutti per l'attenzione e adesso possiamo dare spazio alle domande se ce ne sono grazie ancora grazie mille pietro grazie mille anche a francesco io in realtà avevo una domanda che poi penso tu hai già risposto che è quella di come pensa di sviluppare il tema della fluidodinamica in futuro cmc ma hai risposto poi con l'ultima slide direi e poi ne ho una che mi chiede sulla parte HTC e cloud mi chiedono quali possono essere i tempi di calcolo per queste simulazioni ovviamente spagnometricamente penso intendo credo dipende molto dalla complessità del modello però diciamo che bisogna trovare il giusto il giusto equilibrio tra il numero di core dedicati perché oltre se si fa un numero se si seleziona numero di core eccessivo si perde molto in efficienza perché si perde diciamo si perde più tempo a far scambiare i risultati della simulazione tra un core e l'altro che a fare effettivamente la simulazione per un modello come abbiamo visto relativamente semplice non può essere una pinna però un numero elevato di celle 10 milioni e mezzo o qualcosa del genere un quarto d'ora 20 minuti fattibile un modello di imbarcazione completa credo che selezionando anche il numero di corpi elevato nel giro di volendo anche overnight la lancio la sera torno la mattina e il risultato è pronto poi dipende se la simulazione è l'imbarcazione completa con il moto ondoso con delle movimentazioni poi lì diventa già un po' più complesso però è molto molto flessibile lo strumento HPC può anche permettere magari di spezzettare la simulazione in più modelli diversi e lanciarli in parallelo perfetto visto che avevano detto 45 minuti abbiamo scorato di 10 minuti io non proseguirei oltre con le domande ovviamente io prima di lasciarvi ci tengo a ricordarvi che in primis riceverete comunque una una mail di riassuntiva con la possibilità di rivedere questo webinar e con anche le indicazioni per richiederci i biglietti di Mexpe al termine di tutto questo e poi potrete richiederci l'accesso alla riservata e rivedere il webinar comunque io qualche domanda ancora ce l'ho non so se tu Pietro hai ancora 5 minuti magari chi ci ha fatto la domanda possa andare su e poi chiudiamo io ho una domanda Davide scusami se mi fai condividere un attimo lo schermo lasciamo come sfondo diciamo un'immagine con le informazioni perfetto allora vado un attimo qua sul torno sul sistema schermata 1 condividi perfetto quindi chiudiamo la sessione domande e risposte con un paio di riferimenti su star si è in plus per cui per avere ulteriori informazioni sullo strumento potete visitare questo sito in italiano dove si parla un po' di tutto dalla simulazione multifisica alla fluidodinamica e anche l'utilizzo di star CCM Plus su sistemi HPC ecco a questo punto lascio a voi la parola per le domande e risposte in realtà l'altra domanda che volevo fare mi chiedono qual è il criterio con il quale si decide il raffreddamento delle celle adesso io non so se è una domanda chiara o meno forse questa è una domanda più da Francesco che da me sì allora rispondo volentieri essenzialmente un criterio è basato sul diciamo uno studio di convergenza nel senso che come tutti i metodi numerici tendenzialmente la simulazione e il risultato tende a diciamo convergere verso quello che è la soluzione numerica del problema all'aumentare delle celle vale a dire succede che all'aumentare del numero di celle quindi con celle sempre più piccole si arriva a un certo punto per cui dopo una certa dimensione i risultati non cambiano più o cambiano di poco ecco vuol dire che si è andate a convergenza da un punto di vista numerico quindi è cosa buona e giusta fare come ha fatto tra le altre cose CMC Marine in questo caso sullo studio del diciamo del payback sull'uso del sistema HPC fare all'inizio dell'implementazione del metodo fluido dinamico all'interno dell'azienda uno studio per capire se qual è la dimensione tipica di cella necessaria per risolvere un determinato problema tenete presente comunque che nella libreria di star CCM Plus e soprattutto nell'area di supporto clienti di Siemens sono disponibili delle best practice vada a dire regole di modellazione fluido dinamica messe a punto da Siemens negli anni che aiutano il cliente a non dover scoprire l'acqua calda dall'inizio quindi cominciare a utilizzare quei criteri di modellazione così come le suggerisce Siemens o che possiamo suggerire noi in quanto utilizzatori esperti di queste tecnologie e di lì puoi partire per perfezionare il proprio modello sul proprio prodotto messo a funzionare nelle proprie condizioni operative spero di aver risposto alla domanda in realtà ce n'è un'altra poi direi che possiamo andare verso la conclusione e chiudere chiedono si conferma che penso sia per Pietro che non avete alcun strumento di deployment dei nodi e che tutto venga gestito da Oracle cioè in CMC Marine non avete punti qualtaire torc eccetera per il deployment delle macchine e poi chiede come gestite le interfacce visual allora confermo che è tutto gestito internamente da Oracle Oracle nella sua soluzione ha dei cluster diciamo predefiniti e ha degli script che eseguono direttamente tutta la creazione quindi una volta che dice parti parte lo script e diciamo hanno già dei cluster già preconfigurati adesso stavo cercando il nome ma non me lo ricordo però se uno cerca un po' di informazioni su Oracle le vede quindi sono i cluster già preconfigurati con la loro memoria RAM con i loro processori e vengono vengono creati tutti in automatico per questo dico in un quarto d'ora il cluster è attivo connesso e si può si può lanciare la la simulazione mentre per interfacce visual non so cosa cosa intende ad oggi noi la simulazione la lanciamo da da terminale quindi viene tutto definito da terminale c'è la volontà ah in questo intendo pre post processing viene fatto come se fosse star ccm plus installato sul proprio pc quindi viene viene dato il comando di creazione e della e la visualizzazione viene eseguito non c'è nulla di sì ecco magari introduco io una diciamo un dettaglio sul funzionamento di star ccm plus nei sistemi hpc star ccm plus una delle cose più potenti di star ccm plus è proprio il mesciatore che permette di creare in automatico la griglia e di andare a raffinarla a perfezionarla a correggerla dove ci possono essere degli elementi distorti in maniera completamente automatica quindi questo permette un modello d'uso molto comune è questo ho la licenza tra altre cose come ccm marine una licenza del pre post processore disponibile sulla macchina locale quindi sulla workstation sotto la scrivania e quello lo uso per creare il modello e creare la mesh una volta che ho visto che la mesh viene creata correttamente e ho applicato le condizioni al contorno correttamente posso dire a star ccm plus di cancellare quella mesh e quindi mi ritrovo un file molto compatto come dimensioni che posso caricare facilmente nel cloud e da riga di comando posso dire a star ccm plus di ripetere la costruzione della mesh e in automatico eseguire l'analisi specificando quelli che sono i criteri di convergenza per cui in questa maniera uso in maniera interattiva per il pre processing una macchina locale e soltanto l'analisi viene fatta in remoto altra cosa è il nodo grafico all'interno dell'hpc che mi permette di aprire poi in un ambiente in un desktop remoto l'ambiente l'ambiente di visualizzazione di star ccm plus per eseguire il post processing e diciamo memorizzare interpretare i risultati e diciamo alla fine non ho la necessità di scaricare il file con i risultati ma posso attraverso anche gli strumenti di automation poter generare automaticamente i risultati che mi servono poi per prendere le decisioni progettuali spero che questo abbia risposto alla domanda sì per esempio nella nostra simulazione noi diamo come come comando ogni non so ogni tot secondi o ogni tot istanti di simulazione genera un progett o salva uno snapshot non è nemmeno uno snapshot si può definire un sottogruppo di variabili e con che frequenza salvarli per esempio io voglio sapere la pressione lungo una certa dimensione e posso dirgli ogni 10 millisecondi di simulazione quindi non effettivi ma 10 millisecondi simulati salva il valore e così posso tirarmi fuori anche dei senza dovermi scaricare salvare tutti i risultati di tutta la simulazione posso creare un sottogruppo semplificato su cui puoi lavorare se voglio lavorarci dopo in post processing o direttamente dentro la simulazione io posso farli creare dei dei grafici o per esempio nel caso delle animazioni io posso definire invece che tutti i valori di fare il tracciamento di un singolo punto da cui poi si ha quelle animazioni con i figli è una cosa è integrata dentro direttamente StarCity Simplast perfetto direi che siamo giunti verso la fine io ringrazio Pietro l'ingegnere Cappiello ringrazio Francesco Palloni per il webinar della presentazione riceverete comunque tutto il materiale e ci risentiremo nelle prossime settimane per un recall per capire quali sono stati i feedback o comunque per porci altre domande a cui in questa sede non abbiamo potuto rispondere con chi ci sarà invece ci vedremo a Maxpe dal 29 al 31 marzo buon pomeriggio a tutti grazie Francesco e grazie Pietro grazie a voi buon pomeriggio arrivederci grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi